Namaste, ben ritrovati in questa sequenza sia rilassante che tonificante, che è qualcosa che è fantastico da fare in natura. Inizia con la piccola marcia sul posto per rafforzare i polpacci, spingi i talloni verso l'alto e appoggiane piano uno alla volta. Fai sempre i movimenti in base al tuo ritmo e ora solleva sempre i talloni e poi anche il ginocchio. Ora rilassa le gambe e andiamo a fare un pochino di affondi, sempre in modo lento e consapevole, ispirando a fondo dietro, braccia su, espirando ritorno. Scendi quanto riesci ovviamente e sempre col ginocchio anteriore in linea col piede. Peso al 70% sulla gamba davanti. E ora di nuovo rilassa, respira. e andiamo a fare i movimenti con i talloni insieme, uniti su e giù, su e giù, su e giù. Ora rilassa e ancora li alternerai un pochino sciogliendo anche le braccia, facendo lenti e fluidi movimenti alternati con le braccia. e nel movimento del falco apri le braccia mentre sollevi i talloni, espirando rilassa, inspira, espira. Ancora una volta e rilassa, scuoti un po' e ora andiamo anche ad allungarli un pochino, appoggia il tallone a terra e stendi la gamba davanti. La punta è il più possibile girata in avanti ma ovviamente come riesci, pancia dentro, stai e cambio. Respira e goditi questa bella giornata naturale, inspira ed espira, bravissima per aver seguito fin qua. Leggi tutte le descrizioni sotto al video, lascia un like se ti è piaciuto, condividilo con chi vuoi. Buona prosecuzione e quando si andata